Per la partita del secolo del calcio ci sono tanti nominativi, tanti aggettivi, fenomeno, profeta dei gol, non so, la pantera nera, questo no, questo è il re del re, Edson Arantes Donascimento. Chi ha vinto tre mondiali? Nessuno, solo lui. Chi ha segnato 1280 retti nella sua carriera? Pelé. L'inizio della grande e splendida carriera dei più grandi di tutti i giocatori di tutti i tempi. Pelé, cos'era Pelé? Pelé era un giocatore acrobatico, veloce, saltava bene di testa, tirava bene le punizioni, portava il pallone con la sinistra mentre teneva l'avversario sulla destra, portava il pallone con la destra mentre teneva l'avversario sulla sinistra. Pelé era grandissimo perché sapeva giocare in tutte le posizioni, anche in porta, aveva il calcio nel sangue. Edson Arantes Donascimento, il più grande giocatore di tutti i tempi, in contrastato, re dei re.